Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! In questo video parleremo di dove si trova l'Italia nel mondo e vi dirò le nozioni di base, dal punto di vista geografico, per descrivere l'Italia. Questa sarà una lezione molto semplice, quindi non vi preoccupate e magari se vi piace questa idea farò anche altre lezioni sulla geografia italiana, magari più nello specifico. Oggi ci limitiamo a parlare dal punto di vista generale. Allora, innanzitutto procuratevi una cartina geografica. Io ne ho una. Qui sarebbe interessante che mentre parlo voi abbiate davanti una cartina. Allora, questa è una cartina geografica del mondo, quindi dove si trova l'Italia? L'Italia si trova nel continente europeo, quindi andiamo a localizzare l'Europa sulla cartina. Qua, questa è l'Europa. Quindi vedete, l'Italia è il paese a forma di stivale, ovviamente. A noi però adesso serve una cartina politica, perché vogliamo vedere la divisione delle regioni interne dell'Italia e vogliamo anche vedere i confini, quindi con quali paesi confina l'Italia. Questa è una cartina politica, vedete? Iniziamo dall'esterno, quindi parliamo innanzitutto dei confini di Stato, cioè con quali altri paesi confina l'Italia. Allora, a nord l'Italia confina con la Svizzera e l'Austria. Spostiamoci in senso orario, quindi verso destra. abbiamo detto a nord confina con la Svizzera e l'Austria, a nord est confina con la Slovenia, ad est confina con il mar Adriatico, a sud confina con il mar Ionio, ad ovest confina con il mar Tirreno e a nord ovest confina con la Francia. Quindi vediamo che per tre quarti l'Italia confina con il mare. Questo perché? Perché è una penisola. L'Italia è una penisola. Diamo ora uno sguardo alle venti regioni italiane, perché l'Italia è composta da venti regioni. Cominciando da nord ovest abbiamo la Liguria, poi abbiamo la Valle d'Aosta, poi abbiamo il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, sotto abbiamo il Veneto, poi abbiamo l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio, poi abbiamo l'Abruzzo, poi abbiamo il Molise, poi abbiamo la Campania, poi abbiamo la Puglia, poi abbiamo la Basilicata, poi abbiamo la Calabria e poi abbiamo le due isole Sardegna e Sicilia. Questo è tutto per oggi, spero che queste informazioni vi siano utili e che comunque questo video vi vi aiuti a imparare un lessico un po' diverso, cioè quello per descrivere una cartina geografica. In particolare abbiamo parlato dell'Italia, però i termini che ho usato, per esempio per i confini, per le regioni, possono essere utilizzati per tutti gli altri paesi, quindi annotateveli, perché sono importanti. Grazie mille per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!